la porta è sempre la stessa il destro è sempre lo stesso quasi le tue giocate nel momento in cui servono arrivano come il sesto gol stagionale oggi è andata bene io do sempre il massimo molte volte non riesco a fare quello che voglio altre invece riesco oggi fortunatamente ho segnato il gol vittoria un gol che ci voleva perché ultimamente non stavamo segnando molto gli attaccanti quindi sono veramente contento un gol che mantiene il punticino di vantaggio su Monza visto che i Brianzoli hanno sbancato il terreno di Bolzano sono contento è un gol ancora più importante perché il Monza ancora lì non ci molla e quindi sono ancora più felice per aver portato a casa questi tre punti insomma il Monza è una buona squadra ci abbiamo giocato domenica scorsa e io sono sicuro che ci darà filo da torcere fino alla fine del campionato però noi siamo pronti ad affrontare ogni gara come l'abbiamo affrontata oggi e secondo me possiamo possiamo dire la nostra fino all'ultimo eravamo partiti benissimo con una partenza davvero al razzo della Paganese subito l'incrocio dei palli un'altra tua occasione poi nella ripresa cosa è successo? beh naturalmente ti è fatto sentire anche il caldo siamo partiti bene come hai detto tu purtroppo la palla lì sull'incrocio non è entrata poi un gol annullato anche a ferro poi naturale ripeto il caldo ti è fatto sentire eravamo un po' stanchi ci siamo allungati però non abbiamo mai mollato abbiamo lottato su ogni pallone alla fine è andata bene abbiamo detto dei numeri quattordicesimo gol stagionale della Paganese sempre l'ultimissimo attacco del campionato però è una Paganese che per la predisposizione anche tattica vuole che proprio anche gli attaccanti tornino a dare una mano a volte si canda e si porta alla croce non si riesce a essere poi lucidi lì davanti a essere cattivi questo è evidente perché comunque sia non è che creiamo così tante occasioni però non prendiamo gol ormai da cinque partite siamo compatti lottiamo anche noi attaccanti fino alla nostra era di rigore una Paganese messa bene in campo che dà tutto l'uno per l'altro è naturale che è difficile molte volte ripartire mettere in difficoltà gli altri però noi noi ci proviamo e sicuramente non è facile fare i gol magari che fanno le altre compagini cinque giornate alla fine sei gol l'obiettivo doppia cifra di dieci superare i nove o guagliare quelle della scorsa stagione nel mirino l'obiettivo è fare meglio dell'altro anno non è facile ripeto anche perché non capitano tantissime occasioni a gol però quello è il mio obiettivo personale già da inizio anno mi impegnerò per portarlo a termine insomma a termine la scorsa stagione Grazie a tutti.